Oggi tutti insieme cercheremo di imparare Come fanno per parlare fra di loro gli animali Come fa il cane? E il gatto? La sinello? La mucca? La rana? La becora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta mai capotto Che con i denti funga, che molto spesso pianga Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia ma non strilla Sorseggia camomilla E mezz'attormentato se ne va Guardo sui giornali Non c'è scritto niente Sembra che il problema non importi Alla gente Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa La mia domanda è ancora questa qua Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta mai capotto Che con i denti funga, che molto spesso pianga Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Il coccodrillo come fa? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Non c'è nessuno che lo sa E mezz'attormentato se ne va Avete capito come fa il coccodrillo? Lui mezz'attormentato se ne va